Fabio Vinci, un termoidraulico di San Nicolò d'Arcidano, 50 anni, è morto sabato pomeriggio in seguito allo scontro con un'auto, una BMW guidata da una donna di Terralba che rimasta illesa in via Neapolis. La vittima era alla guida di un Vespone. Vinci, che era appassionato di moto d'epoca, avrebbe inspiegabilmente invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva la BMW andando a sbattere all'altezza del paraurti sinistro. L'impatto è stato talmente violento che il motociclista è stato sbalzato dalla sella, morendo con molta probabilità sul colpo. A nulla sono infatti serviti soccorsi, giunti dopo pochi minuti. Sul corpo dell'uomo il giudice ha disposto l'autopsia anche perché la causa della perdita di controllo potrebbe essere attribuita ad un malore. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Terralba. Una manifestazione per chiedere la scarcerazione di Dodore Meloni e sensibilizzare sulla sua vicenda sarà organizzata dal movimento Meris Maluentu per lunedì 29 maggio prossimo, in occasione della nuova udienza fissata davanti al tribunale relativa a uno dei procedimenti in cui l'indipendentista di Terralba compare come imputato. Le condizioni di salute di Meloni che sta praticando lo sciopero della fame da oltre tre settimane, cioè dal giorno del suo arresto, continuano a preoccupare. Meloni nei giorni scorsi è stato accompagnato in barella fuori dalla Sardegna per essere sottoposta ad un altro processo in corso. L'avvocato Cristina Puddu, legale di Dodore, ha formalizzato un'istanza con la quale chiede la visita da parte del medico personale e il ricovero dello stesso Meloni in ospedale. La situazione, ha detto l'avvocato Puddu, è molto preoccupante. Dottore Meloni non riesce più a camminare e ha difficoltà anche ad accudire alla sua igiene personale. Nei giorni scorsi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato idratato con una flebo su disposizione del medico del carcere di Massama, dove l'indipendentista è rinchiuso per scontare alcune pene legate ad altrettante condanne per evasione fiscale e falso. Angelo Bresciani è il nuovo presidente della fondazione Sasartiglia Onlus. Lo ha eletto all'unanimità il consiglio di amministrazione della fondazione nella seduta di insediamento. 68 anni, originario di Leno in provincia di Brescia, ha corso la Sartiglia per una ventina d'anni ed è anche l'unico, nel 1988, ad aver centrato tre stelle nel corso di una stessa edizione. Bresciani è stato presidente della giuria della Sartiglia e rimarrà in carica fino al 2022. Alla guida della fondazione Sasartiglia succede a Guido Tendas. La Sartiglia è il simbolo identitario più importante di questa città, ha detto il nuovo presidente subito dopo l'elezione. Lavoreremo per trovare nuovi orizzonti a questa manifestazione. L'obiettivo è guardare avanti per traghettarla verso il meglio. Nei giorni scorsi sono stati completamente rinnovati gli organi della fondazione, conseguentemente a quanto previsto dal nuovo statuto, che ha introdotto importanti novità. Il presidente non è più il sindaco di Oristano, in virtù delle incompatibilità stabilite dalla legge Severino, ma viene eletto dal consiglio di amministrazione. Nel consiglio generale, invece, entrano nuove rappresentanze, favorendo anche la partecipazione popolare. Al momento si è toccata quota 250 e questa voglia di partecipare dovrà rappresentare un punto di forza della nuova fondazione Sasartiglia. Il nuovo consiglio generale è composto da 21 persone, con tutte le rappresentanze previste dallo statuto, comune di Oristano, gremi dei contadini e dei falegnami, associazione Cavalieri, camera di commercio, proloco e rappresentanti dei partecipanti che hanno dato l'adesione alla fondazione. Del consiglio generale fanno parte Francesco Castagna, in qualità di presidente dell'associazione Cavalieri, Gabriella Collu, Andrea Cossu della Proloco, Luigi Cozzoli, Giovanni Desi del Grimio dei Contadini, Federico Fadda, Nando Faedda della Camera di Commercio, Enrico Fiori, Efisio Marras, Vincenzo Mattana del Grimio dei Falegnami, Pierpaolo Melis, Antonio Mugheddu, Cesare Muru, Giovanni Paolo Obino, presidente del Grimio dei Contadini, Edmondo Piana, Michele Pinna, Andrea Piras, Rossella Sanna, Andrea Sanna, presidente del Grimio dei Falegnami, Andrea Sanna, rappresentante dei partecipanti e Antonio Sanna. Il primo compito del consiglio generale è stata la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. All'unanimità sono stati eletti Attilio Balduzzi, Angelo Bresciani, Marco Pessini, Carlo Pisanu e Marzio Schintu. Martedì 23 maggio alle 18 a Santa Giusta, nei locali del centro civico, si terrà un consiglio comunale straordinario per il settantesimo anniversario della ricostituzione del comune. Nello stesso giorno della pubblicazione della gazzetta ufficiale del provvedimento, il comune è stato autonomo fino al 1927. A partire da quell'anno è stato accorpato al comune di Oristano. La prima richiesta di ricostituzione di Santa Giusta come comune autonomo si ebbe nel 1945. In quel momento la giunta, formatasi a seguito della conclusione del ventennio fascista, la rigettò, ritenendo che Santa Giusta non avesse una solidità finanziaria tale da potersi gestire autonomamente. La svolta si ebbe quando ad Oristano, con le prime libere elezioni amministrative, venne eletto sindaco l'avvocato Alfredo Corrias. In quella occasione si insediò il primo consiglio comunale post-fascista, liberamente eletto. A seguito di ciò, un gruppo di cittadini aveva richiesto al prefetto di intervenire per un riesame. Il consiglio comunale diede la sua disponibilità, revocando la delibera del 1945. L'amministrazione comunale di Santa Giusta e il sindaco Antonello Figus, per ricordare e celebrare quegli avvenimenti così significativi per la comunità santa giustese, hanno invitato tutti gli amministratori di questi 70 anni trascorsi. Nel corso della cerimonia verranno consegnati dei riconoscimenti per il servizio svolto a favore della comunità. A memoria del cammino svolto e come simbolo dell'autonomia viene consegnata una spilla con il logo comunale. Per l'occasione verranno consegnati dei riconoscimenti anche ai cittadini di Santa Giusta, che si sono particolarmente distinti nel far conoscere e promuovere la comunità, con le loro competenze culturali, artistiche e musicali. Alla cerimonia sono state invitate anche le autorità civili e religiose della provincia. Inoltre è stata predisposta la proiezione di un filmato che riprende anche l'immagine di Santa Giusta nel settantennio scorso di una nuova autonomia del paese. Verrà anche presentato il logo che è stato elaborato a memoria dell'evento e che caratterizzerà tutte le attività che la comunità svolgerà anche in futuro per celebrare l'occasione. Il comune sta predisponendo due pubblicazioni. Una sulla ricerca storica e archivistica, che contiene le deliberazioni amministrative, una seconda che riprende la storia della comunità sociale dalla preistoria ai nostri giorni. L'isola più misteriosa del Mediterraneo è pronta a svelare le sue tradizioni autentiche e genuine. Dopo Nuoro, Orosei, Olbia, Sassari, Cabras e Santa Caterina di Pittinuri, Voce di Maggio sbarca nella splendida cornice delle terme di Fort Don Gianus. Sarà la località in provincia di Odistano a ospitare il 27 e 28 maggio l'evento di musica, tradizione, moda e gastronomia di maggior richiamo in Sardegna. Grazie alla manifestazione nata 17 anni fa dall'intuito dell'Associazione Culturale Istentales, che ha riunito gli artisti più rappresentativi del panorama artistico isolano e nazionale e che poi è diventato itinerante, andrà in scena per due giorni una grande festa popolare. Migliaia di visitatori affolleranno le terme di Fort Don Gianus, seguendo un ricchissimo programma che spazia dai convegni alle sagre, dalle dimostrazioni ai lavoratori del fare, fino alle rievocazioni storiche e che ruoterà intorno a due grandi appuntamenti musicali. Il 27 maggio alle 18 saliranno sul palco alcuni dei più importanti artisti del panorama sardo e nazionale, come Cristiano De Andrè, Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi, Istentales, Bertas, Maria Luisa Congiu, Francesca Lai, Luce, Niera, Pandelas, Boghes e Ballos, Coro Amici del Folclore, Coro Soscanarios, Coro di Pozzo Maggiore, Boes e Merdule Bezos. L'ingresso sarà come sempre gratuito e presenterà la serata Giuliano Barongiu. La sera successiva invece il concerto di Eugenio Finardi in compagnia di Enzo Mugoni, Mirko Mariani, B-Brother, Sara Oppo e Paola Virde, che chiuderà Voci di Maggio dando a tutti l'appuntamento al prossimo anno. Dopo il convegno di apertura del 26 maggio nell'Aula Consigliare del Comune, Voci di Maggio prenderà il via con la Sagra del Vitello, la gara di tosatura e il torneo di solidarietà di calcio a 5, mentre nell'area archeologica saranno organizzate visite guidate con la cooperativa Forum Traiani, attività didattiche con i rievocatori storici dell'Associazione Sardinia Romana, è inserata la rievocazione storica nel segno di Traiano. Dopo lo spettacolo musicale la festa si sposterà di nuovo in tavola con la Sagra del Maialetto. Il giorno successivo, tra visite guidate e rievocazioni, ci sarà spazio anche per la Sagra dei prodotti tipici, per le prove pratiche di protezione civile e per Moda di Maggio, una sorta di evento nell'evento coordinato da Leonardo Catta. Per tutta la durata della manifestazione si potrà inoltre assistere alle rievocazioni di antichi mestieri oppure curiosare tra i banchi della fiera dell'artigianato e dell'agroalimentare, fra le delizie del mercato di Campagna Amica e nella mostra della flora e della fauna della Sardegna allestita dall'ente Foreste Sardo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.